la meloni dice di abbassare i toni cioè tu mi dai della persona che si inchina i mafiosi e io devo abbassare i toni pier luigi bersani ospite di tiziana pannellata gadà sulla 7 ha attaccato la premier sul caso donzelli del mastro adesso la meloni che non vuole far dimettere il sottosegretario darà indicazioni spero a quei funzionari di non mandarle più al ministero le pratiche perché girano commentando il fatto che quei documenti rivelati da donzelli in aula dopo che gli sarebbero stati riferiti da del mastro non sarebbero riservati l'ospite della panella ha detto se qualcuno mi viene a dire che son divulgabili volete mandarle anche a me per favore poi un appello rivolto direttamente alla premier la meloni deve rispondermi o manda a casa il sottosegretario o dice di non mandare più note riservate a della gente inaffidabile se l'italia digerisce una cosa così siamo avanti coi lavori se i documenti sono riservati un ministro un sottosegretario deve tenerli riservati e non usarli per la sua battaglia politica ha proseguito bersani che nella destra liberale italiana non venga fuori un ripudio di questo modo di fare è pericoloso grazie a tutti Grazie a tutti.